Salve ragazzi, io sono Bravox e benvenuti alla seconda settimana della Bravox YouTube Acoustic Experience. Questa settimana è stato estratto a sorte il secondo pezzo ed è uscito Ultra Violet. E voglio dedicare questa canzone soprattutto alla persona dal quale mi è stata poi suggerita, quindi la mia ragazza, e vorrei dedicare questa canzone esattamente a lei, Ultra Violet. Grazie a tutti. 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 Put your violet Put your violet Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Come my way Baby, baby, baby Baby, baby, baby Light my way Baby, baby, baby Light my way Grazie, grazie a tutti quanti E allora, colgo l'occasione per passare l'invito per la prossima settimana Quindi a partire da oggi, da venerdì Fino a giovedì, scusatemi, prossimo Avete di tempo per scrivermi le vostre canzoni sotto questo video Ovviamente, ripeto tutto per i miei amici stranieri So, we have one week from this Friday to next Thursday To write the comments with the name of the song that you won't listen in the next video Thank you everyone Mettete un bel pollicione Thumbs up, my friends E ci vediamo la prossima settimana See you next week Bye, guys